Come i nostri consumi a partire da quello alimentare determinano delle conseguenze sugli squilibri ambientali, sociali ed economici che caratterizzano un po' la nostra epoca. E' la riflessione che sarà offerta in occasione dei Dialoghi di Pistoia e il Festival di Antropologia del Contemporaneo, che si terrà in città tra meno di un mese, dal 24 al 26 maggio, tre giornate durante le quali studiosi, storici, artisti, ma anche scienziati, chef, filosofi, si confronteranno attorno all'interrogativo Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente. Il festival, giunto alla quindicesima edizione, promosso da Fondazione Caripet e Comune di Pistoia, è stato presentato a Palazzo dei Rossi. Affronteremo questo tema con quelle che sono un po' le caratteristiche dei Dialoghi, quindi con 55 appuntamenti che prevedono i tradizionali incontri con studiosi e scienziati, ma anche con spettacoli e concerti di grande qualità. Un tema, quello del cibo, al centro oggi del dibattito anche politico per le implicazioni sociali ed economiche, ma che sarà affrontato anche sul fronte delle implicazioni ambientali e delle produzioni. Credo che il tema di quest'anno sia centrale e casca in modo fortunato in un dibattito complessivo che parlerà appunto del cibo, dell'alimentazione e su cui ci incentreranno anche scelte future che condizioneranno anche la nostra alimentazione, il nostro vivere, il nostro paese. Il premio internazionale di Dialoghi sarà quest'anno poi assegnato al giornalista e scrittore Corrado Augas, ad arricchire le conferenze proposte in Piazza Duomo, al Teatro Bolognini, al Manzoni e al Pacini di Pescia, documentari e spettacoli. Come il bellissimo concerto jazz di Sosa e Fresu o lo spettacolo a reading musicale di Peppe Servillo e Natalio Mangalavite dedicato a Terzani nel ventennale della morte. Scuole Scuole Scuole